La Giunta regionale ha approvato il piano di vaccinazione per tutti i Lombardi e insiste sulla richiesta al Ministero della Salute di accelerare sulla prima dose rinviando la seconda. Se ci saranno i vaccini sufficienti, entro la fine di giugno completeremo la campagna, ha ribadito l'assessore al welfare Letizia Moratti, che ha precisato come sia previsto un investimento totale di 214 milioni di euro. La prossima settimana con una seconda delibera saranno indicate tutte le sedi vaccinali, mentre sono in corso ulteriori valutazioni, in particolare per avviare la somministrazione anche nelle aziende. La delibera stabilisce le indicazioni chiare e tutti gli aspetti per accompagnare il percorso di vaccinazione, ha sottolineato Letizia Moratti. Abbiamo messo a punto un modello misto che prevede punti di grande erogazione, con numeri elevati di vaccini somministrati ogni giorno e altri medie piccoli distribuiti sul territorio e più vicini ai cittadini. In tutti i casi saranno utilizzate strutture già esistenti. La Regione ha insistito poi con il Ministero sulla possibilità di modificare la strategia, distanziando i tempi tra la prima e la seconda dose e vagliando anche la possibilità di utilizzare altri farmaci già validati in altri paesi, come il russo Sputnik. Abbiamo richiesto di poter validare, ampliando la possibilità di avere ulteriori vaccini che sono già validati nei loro paesi e già attivi in altri paesi. E rispetto a questo sappiamo che AIFA insieme ad EMA andrà a validare le modalità con le quali si produce il vaccino. Il nuovo direttore del settore welfare Gianni Pavesi ha confermato il ruolo fondamentale dei medici di medicina generale e delle strutture private, ma anche delle aziende. La settimana prossima vi daremo la localizzazione precisa dei siti, che però in ogni caso è una localizzazione che può avere anche una sua variabilità nel tempo. Qualora trovassimo situazioni nuove che ci consentano di fare più vaccini, stiamo incominciando a ragionare anche con l'industria privata, con la Confindustria vogliamo capire anche, ricordatevi, il ruolo dei medici competenti, che possono essere anche loro uno strumento importante per fare vaccinazioni. Quindi stiamo mettendo il massimo in campo.